1866, l'anno del referendum che portò il Veneto all'interno del Regno d'Italia, un referendum truffa secondo molti storici, un periodo controverso e in parte oscuro, raccontato nel film Il Leone di Vetro, presentato dalla regione nell'ambito della mostra del cinema di Venezia, che sarà nelle sale dal 2 ottobre. Due famiglie, i Biasin, contadini e vignaioli, i querini, i nobili decaduti, un grande protagonista, il vino, il raboso del Piave, imbottigliato in bottiglie preziose con il Leone alato d'oro, da cui il nome del film, e poi il Veneto e i Veneti, raccontati dal regista napoletano Salvatore Chiosi. Ho voluto proprio raccontare fondamentalmente la dignità di un popolo, e non volevo neanche io compiacermi molto a sottolineare delle emozioni, avrei potuto farlo. Spero di suscitare delle emozioni più forti, delle emozioni interiori che sono molto più forti e che mi auguro che facciano pensare. La decadenza di una famiglia nobiliare veneta, l'ambizione di Biasin, la divisione del popolo, chi favorevole all'annessione, chi, molti, no. Non un film politico Il Leone di Vetro, sottolinea il regista, che porta però alla ribalta il tema dell'indipendenza, con un referendum sull'autonomia che potrebbe essere alle porte. Non bisogna aver paura di riguardare quel periodo, bisogna solamente oggi come oggi, credendo comunque in un'unità, perché siamo italiani, però con le proprie autonomie. Tra gli attori Claudio De Davide, il Patriarca, Alvise Biasin, Cristian Jansante, Jacopo Biasin, Maximiliano Ernardo Bruno, Spartaco Biasin, il padovano Alvaro Gradelle, Sara Ricci, la nobile Cecilia Querini. Vi capisco un po' di più, cioè da quel momento ho capito questo orgoglio veneziano, perché insomma ci sono ancora delle fratture, ma non perché non vi sentiate italiani, ma perché vi sentite presi in giro. Un film per lanciare la nostra regione, girato in buona parte in provincia di Treviso, sulle colline di produzione del Raboso del Piave. È un film che mette un po' di verità sulla storia che è stata trascurata per decenni. Si riconoscono in questo film i valori delle nostre famiglie trevisane, si riconosce il nostro territorio e si riconosce quella grande voglia di fare con onestà.